Sarà un altro segno del tempo che cambia, ma al circolo artico il termometro segna circa 38 gradi. Nella cittadina siberiana di Verkojansk i più ne approfittano, anche se gli scienziati si dicono preoccupatissimi. Beviamo molto e i capellini sono fondamentali. È semplicemente fantastico, questa è l'estate. La Russia ha appena vissuto il suo inverno più caldo degli ultimi 130 anni e la Siberia ha visto una prolungata ondata di caldo che ha causato incendi. Quando c'è un anticiclone il cielo è terzo, ci sono poche nuvole. Adesso è il periodo del sostizio d'estate, il sole non tramonta e il suolo è riscaldato costantemente. La cittadina siberiana conta 1300 persone ed è annoverata nel Guinness dei primati per avere le più importanti variazioni di temperatura al mondo.